Il basket italiano al maschile è pronto a ripartire dopo lo stop forzato per la pandemia del coronavirus, ma con regole e date naturalmente certe. L'iscrizione ai nuovi campionati di A, A2 e B dovrà essere fatta entro il prossimo 31 luglio. Il presidente della FIP Fetrucci, nell'ultimo consiglio federale della scorsa settimana, ha invitato le leghe LBA e LNP a stabilire quanto prima le date per lo svolgimento delle gare ufficiali per la prossima stagione 2020-2021. Per poter poi permettere alla stessa FIP di deliberarne l'approvazione. L'indicazione data dalla federazione è quella di far ripartire il tutto entro il mese di ottobre. Le società di Serie A, A2 e B potranno chiedere il riposizionamento in un campionato diverso da quello per cui vantano un diritto sportivo, entrano oltre il 15 giugno 2020. Si è svolta invece sabato scorso in videoconferenza una riunione dei club di Serie A2. È emersa all'unanimità l'esigenza della partenza del campionato solo a porte aperte, con l'organizzazione precedentemente a settembre di una Supercoppa, con larga visibilità a web e tv e forse a porte chiuse. È stato richiesto anche un maggiore aiuto economico alla FIP per le spese di gestione della prossima stagione. Ribadito inoltre da tutte le squadre di Serie A2, il forte impegno di tutti i club ad avere una linea comune sulla gestione dei contratti per gli accordi economici con i vari tesserati. Intanto in Campania e in casa Gevi Napoli Basket, confermata naturalmente la guida tecnica di Coccepino Sacripanti, rimarranno ancora in azzurro Sandri e Iannuzzi, in attesa di altre conferme da valutare, come quella di Monaldi. In casa Givova Scafati invece si punta la guida tecnica di prestigio, con l'ambizione di riportare in Campania Piero Bucchi, ultimamente a Roma in Serie A, con un programma pluriennale che potrebbe portare anche alla richiesta di un ripescaggio in Serie A. Fra i giocatori confermati in giallo-blu, Markovic, Portannese, Rossato e Contento. Grazie a tutti.